Con fondi dedicati alla disabilità scolastica del Ministero, l'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, con l'impegno della consigliera delegata alla scuola Anna Maria Mazzariella, donato alle scuole del paese, giochi dedicati a bambini con fragilità motoria e cognitiva. E' stata inoltre installata dinanzi alla scuola una panchina per disabili che ha in sostanza uno spazio che permette ai bambini, ma anche agli adulti su sedia a rotella, di vivere la piazza antistante e la scuola elementare allo stesso modo dei propri amici e delle proprie amiche. La consegna è avvenuta nella mattinata di ieri. La consigliera Mazzariello ha consegnato personalmente alle responsabili dei plessi scolastici i giochi destinati ai bambini ed inoltre alla presenza del sindaco Donato Pica e degli altri componenti dell'amministrazione comunale, proprio nella mattinata di ieri è stata anche installata la nuova panchina.